Eccoci giunti a Pio Sasto, quello che vedete è il castello di Pio Sasto come il Monte San Giorgio che lo domina, nota meta di sentieri per gli appassionati della manta bike, siamo praticamente all'acqua di pianura che collega i Nerolo a Pio Sasto e finalmente abbandoneremo questa superstrada per tagliare verso Rivalda, quasi a destinazione.